E oggi pomeriggio alle 17 presso la compagnia della vela a Venezia, confronto promosso da WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, tema come comunicare meglio il valore sociale dello sport. Sentiamo la presidente di WISP Veneto, Claudia Rutka. Abbiamo bisogno di fare un salto di qualità in questo ambito, noi organizziamo lo sport per tutti, siamo un'associazione nazionale, un'ente di promozione sportiva e un'associazione di promozione sociale che organizza tutti gli sport. Nel Veneto abbiamo circa 60 mila tesserati e lo scopo è quello di riuscire appunto a comunicarlo. C'è qualche problema da parte nostra ma spesso riscontriamo anche da parte di giornalisti diciamo non molta attenzione. Cosa vuol dire sport per tutti? È un mezzo di riscatto? Anche la Biennale Architettura è chiaramente uno sport sociale. Abbiamo una grandissima esperienza per quanto riguarda anche situazioni tipo attività nelle carceri, con gli anziani in maniera ramificata proprio nel territorio. Lavoriamo anche sul disagio giovanile con una nuova proposta, nuovi sport che vanno dal parkour, allo skyline, alle giocolerie eccetera, che attirano molto i ragazzi. C'è la necessità anche di riqualificare il luogo dove si fa l'attività. Spesso parchi abbandonati che diventano invece, riacquistano una nuova vita e i ragazzi si prendono cura di questi spazi.